Dobbiamo essere più cattivi e più cinici perché crei 6, 7, 8 occasioni e fai solo un gol e purtroppo va a riposo sull'1-0. Ovviamente tutte le partite di questo sport non sono mai chiuse sul 3-0, figurarsi sull'1-0. Loro giustamente ci hanno creduto, hanno preso fino all'1 pari, poi abbiamo cambiato marcia, questa volta abbiamo reagito sul campo come è giusto che sia, e non come a Fiumicino che ci siamo fatti prendere dai nervi e l'abbiamo vinta sul campo meritatamente, abbiamo alzato il ritmo, abbiamo messo pressione e il gol è stato il frutto del lavoro che abbiamo fatto, sono contento dei tre punti, dobbiamo lavorare ancora sulla gestione del risultato perché dobbiamo ancora essere più cinici. Per il futuro penso che questa Pisana possa stare sicuramente fra le prime cinque, questo è il nostro obiettivo, lavoreremo solo per apestarci, certo dobbiamo migliorare, ma insomma sono molto fiducioso.